30. Libro Mastro Domanda Perché dite che ogni incarnazione non potrebbe essere diversa da quello che è? Guida Perché tutte le vostre necessità evolutive sono iscritte nel Libro Mastro della vostra coscienza. La perfezione quindi non è la meticolosità con cui il Libro Mastro viene eseguito, non dipende da una legge al di fuori di voi, ma da voi stessi.